La città di Napoli Abbiamo saputo risolvere i problemi che altri hanno trasformato in tragedie Ora che abbiamo liberato Napoli dai rifiuti, cacciamo dalla regione gli incompetenti e i parolai Cominciamo dal lavoro, da un buon lavoro, questo è il primo dei nostri impegni La sanità per noi è diritto alla salute, una sanità del cittadino Nella nostra regione è imperativo sconfiggere la criminalità organizzata Ripunire la nostra terra per noi è stato solo l'inizio Occorre ora completare il recupero del nostro territorio per dare ai nostri figli un avvenire sano e pulito Per cambiare e tornare a sorridere Per cambiare e tornare a sorridere